Ciao. Ciao, Asso. Mi dì qualcosa? Charlie, vuoi fare il bis? Sì, va benissimo. No, io niente. Signor Clark, come va? Salve. Bene. Ho cercato di contattarla, è più facile beccare il presidente. Beh, ho avuto da fare. Certo, ma poteva almeno farmi una telefonata, però. Senta, Nicky, ne abbiamo già discusso. Le avevo spiegato che c'era la probabilità che lei subisse una qualche perdita. Già. Credo di rivolere i miei soldi. Che vuole fare? Ricorrere alla violenza? Sa, credo che si sia fatta un'impressione sbagliata di me. Credo in tutta franchezza che dovrei spiegarle esattamente cosa è che faccio. Per esempio, domani mattina mi sveglierò molto presto, farò una vasseggiata fino alla banca. Verrò a trovarla. E se lei non ha pronti i soldi per me, io quella testa di cazzo gliela sbacco in due davanti a tutte quelle dalla banca. E proprio quando sarò per uscire di galera, se tutto va bene, lei starà per uscire dal coma. E indovini un po', le spacco di nuovo quella testa di cazzo. Perché sono uno stronzo di merda, non me ne frega della galera. Questo è il mio lavoro. È questo che faccio. E sappiamo che cosa fa lei, vero Charlie? Lei frega le persone, i soldi e la fa franca. E il cazzone irlandese, hai messo i miei soldi a dormire. O mi ridai i miei soldi o ci metto il tuo cervello a dormire. Sam! Lascia perdere Sam, è una faccenda personale. Sarò lì domani mattina, dai, mettimi alla prova, ciccione. Mettimi alla prova. L'avrà capito? Ma che fai?